eh ma aspetta ma io sto registrando oh 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 perché è partita la registrazione ah stop ah che cosa di bella io sto registrando qua ma che cavo è perché sto registrando dove sto dormendo dura tre ore ma ando a gioco la maiala di zia pepina ok allora scendiamo qua allora ciao a tutti ragazzi io sono arturino e benvenuti in questo nuovo giochino di nome melon plague longly blaglangla qui farò delle storie pazze molto ecco qua delle storie molto pazze che qui che qui io sto tipo farò delle storie pazze allora già che io sto cadendo da solo è già cattivo allora io vi vorrei far vedere il mio personaggio non mi dite perché c'ho un elmetto perché non lo so ma anch'io però sono verde tutto verde quindi molto bello molto bello avete capito oh allora qui ho dei pantaloni grigi perché sono shrek e devo almeno vestirmi alla moda ecco qua ecco qua e niente bene bene io faccio vedere qui delle cose mi no ok perfetto io vi faccio vedere il mio quartiere che ho ancora avuto ma diventerà pieno di amici miei nuovi zio tranne vinci che non c'è non c'è che ho ancora avuto aspettate nati allora questa è la cucina ecco la bellissima molto bella senza manco un da un piatto di cosa sto dicendo e bb mo continuiamo vi faccio vedere la mia stanza dové troppo piccola e non riesco a stare in piedi beh qui c'è solo il mio letto di diventare come un pc da gaming molto bello e faccio go 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 e basta ed ecco qua procediamo qui non mi butta il razzo perché se no cado qui deve esserci il cesso però non c'è perché devo fare dei lavori a casa quindi a casa questa mia quindi non c'è ancora però ci sarà presto il cesso ne ho le gambe rotte managgio quella maia rona di zia peppina che ci sarà anche lei penso poi se non c'è bestia che bello allora bene ragazzo che cavo è questa schermata non lo so io bene ragazzo questo mondo è bellissimo la mia casa è bella è vero sono maglialone aspettate che vi faccio vedere ancora il la clem della clem ed eccoci qui allora qui c'è il mio canestro da basket lì c'è la mia palla da basket da calcio poi c'è un cactus poi c'è un cactus molto bello poi c'è un barile pieno di vino che a me mi piace poi uva quella lì per fare il vino poi qui c'è tutto il mio cibo che mi mangio ogni giorno cioè questo è il cibo che mi mangio ogni giorno questo questo aspettate che mi è venuta un po di fame ma la mangio ah che buono allora e basta c'ho la gamba spezzata aiuto aiuto e basta allora nei commenti se qualcuno avete sto video scrivetemi come la mia casa da un livello di drip a 10 livello di drip che questo mi serve la casa di 30 miliardi di drip e ci vediamo fuori ed eccoci fu ma perché sono sul va bene mi butto addio aia aia le gambe spezzata guardate quanto è spezzata stagano madonna mio dove me la sono rotta allora lo subito fare questa cosa che prendiamo questo ok mi sono tirato una bomba da solo non si sa perché però mi sembra bello e ci vediamo quando starò bene ok non sto bene non sto benissimo grazie grazie sia sia bellissimo guardate guardate che bello io farò io farò un sacco di serie mentre poi c'ho 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 già ancora una serie che non vi faccio vedere aiuto vi faccio vi faccio vedere ecco ecco qua ecco qua vi posso solo spoilerare questo vi si spoilerò solo questo perché poi non posso spoilerare più niente ok allora ci vediamo a un prossimo video di melon di melon playground o di minecraft che forse non porterò più video però vabbè e io vi saluterei ciao ciao ciao